Mini Challenge, settima edizione, come è cresciuta negli anni questa competizione? Come si svolgerà il Mini Challenge 2018? Ha detto bene, stiamo entrando nella settima edizione, abbiamo iniziato nel 2012 e di anno in anno siamo sempre cresciuti, siamo sempre cresciuti in termini pubblici, siamo sempre cresciuti in termini di team che hanno partecipato e di piloti che hanno gareggiato con noi. L'anno scorso è stato un vero anno record, quindi è un punto importante di partenza anche per la possibilità che hanno le persone di raggiungerci durante il weekend di gara e di godere non solo della possibilità di correre quando possono e vogliono correre, ma anche della possibilità di provare tutta la gamma John Cooper Works all'interno del circuito, così come all'esterno. Il format di quest'anno è grossomodo quello dell'anno scorso, quindi sei weekend di gara, da fine aprile con Imola a fine ottobre con Monza. Una novità rispetto all'anno scorso è l'introduzione, la reintroduzione di un circuito in Francia che è le Castelè, abbiamo corso per la prima volta in 2014 alle Castelè e ci torniamo e ne siamo molto contenti. Tutti coloro che non potranno raggiungerci durante il weekend di gara avranno la possibilità di seguire in diretta le corse o sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito mini.it oppure indifferita sul nuovo canale di Discovery Motor Trend. Quindi un'offerta ampia per tutti coloro che vorranno raggiungerci e che sono ovviamente i benvenuti perché il mondo mini è aperto a tutti. Grazie.